Musica Siamo accompagnati tre addirittura ginnaste della nostra nazionale, chiediamo una domanda semplice, voglio che mi rispondiate una per una, come vi è sembrata la vostra prestazione di oggi? Io è il primo incontro internazionale da senior che faccio, quindi sono soddisfatta, a parte qualche errore alla trave, però bene. Anche io sono contenta, a parte la trave, che sono caduta da un elemento che non sbaglio mai, perché è semplice, però per il resto sono soddisfatta della mia gara. Anch'io ho fatto una buona gara, erano un po' di mesi che non facevo la gara su tutti i quattro gli attrezzi ed è una buona prova per i mondiali. Infatti, proprio di mondiali, volevo parlarvi, dovrete sottoporvi a ulteriori test, ci saranno le convocazioni. Una vostra idea? Spero di fare le gare al meglio possibile, poi si vedrà. Si vedrà settimana prossima con la Golden League e speriamo di poter partire, che sarà una bellissima esperienza. Cercherò di lavorare, dare il mio massimo per pulire ancora un po' gli esercizi e spero di essere in squadra. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie mille.